ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questa meravigliosa chiusura con utilizzo del filo e dell'ago guardate il risultato finale che bello è una chiusura molto elastica che non tira in fondo e vi permette avere una continuazione del motivo senza realizzare la classica triccettina che si realizza quando facciamo la chiusura delle maglie questa è una chiusura consigliata per i vari progetti ad esempio se stiamo lavorando top down e vogliamo andare a chiudere un maglione in fondo e non lo vogliamo un bordo stretto possiamo andare a applicare questa chiusura ad esempio per le mani oppure per le sciarpe comunque è una chiusura che può essere adatta per i vari progetti ora andiamo appunto a vedere come realizzarlo per l'illustrazione della chiusura noi abbiamo già realizzato un campioncino lavorato a legaccio la prima cosa da fare per andare a chiudere le maglie con utilizzo dell'ago e il filo e determinare la lunghezza del filo da tagliare e si determina in questo modo semplice quattro volte la lunghezza del progetto stesso come stiamo facendo uno due tre in questo modo semplice quattro qui abbiamo un pochino in più tagliamo volendo possiamo anche lasciare perché era veramente pochissima questa è la lunghezza che ci dovrebbe bastare per chiudere le mali per non ritrovarci con il filo piccolo ora guardate noi ci mettiamo vicino per vedere meglio i passaggi qui con l'ago noi dobbiamo andare entrare in asola di due mali in questo modo da destra verso sinistra come se dovessimo andare lavorare un rovescio entriamo in asola di queste due mali e tiriamo il nostro filo ora dobbiamo andare fare il movimento viceversa dobbiamo andare entrare da sinistra verso destra nella prima malia quindi da due entriamo al ritorno entriamo solo nella prima tiriamo avvolgiamo e questa prima è già pronta per essere molata messa giù perché l'abbiamo già chiusa quindi la facciamo cadere tiriamo il filo aggiustiamo e prima malia è stata chiusa ora dobbiamo fare sempre la stessa cosa entrare da destra verso sinistra in due asole da davanti come se dovessimo andare lavorare un rovescio primo passaggio da sinistra verso destra da destra verso sinistra con l'ago ora da sinistra verso destra invece solo in un'asola questo come se fosse il ritorno solo in un'asola nella prima ora facciamo cadere la prima dal nostro ferro di sinistra ecco che abbiamo chiuso anche la seconda maglia e così dobbiamo andare procedere per tutto il ferro quindi noi ricordiamo di andare entrare in asola di due maglie da destra verso sinistra poi da sinistra invece andiamo verso destra entrando solo nella prima asola nella prima maglia della coppia e ora facciamo cadere la prima maglia è facilissimo ci sono i passaggi in più da fare ma è facile è molto meccanico nella lavorazione e soprattutto ci permette creare un bordo davvero molto bello e molto elastico non 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 ed ecco qui stiamo arrivando al fine del ferro quindi entriamo nell'asola di due maglie successivamente nell'asola della prima la facciamo cadere e la ultima la chiudiamo semplicemente entrando dentro la sua asolina e tirando bene il filo per chiudere il nodino e voilà abbiamo fatto la nostra spettacolare chiusura che è davvero molto bella molto elastica e la troviamo davvero molto utile perciò volevamo condividerla con voi speriamo che questo tutorial sia stato chiaro soprattutto che sia utile se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere il tutorial in uscita vi aspettiamo anche su facebook dove abbiamo sia la pagina che il gruppo grazie a tutti e al prossimo video tutorial